L'Amen ABC Servizi inizia la seconda fase del campionato battendo la Gulliver-Dertona per 82 a 67. Dopo il primo canestro messo a segno dagli ospiti, la SBA infila un parziale di 9 a 0 che indirizza la prima parte di gara a favore del quintetto di coach evangelisti. Dopo il 14 a 9 con cui si è chiuso il primo quarto, i ritmi di entrambe le squadre cambiano decisamente la partita, diventa più veloce, Jankovic e gli Annicelli sono i primi riferimenti dell'Amen BC Servizi mentre dall'altra parte sono ben quattro le triple prima dell'intervallo dei ragazzi di coach Ansaloni. Al rientro in campo la partita rimane con l'Amen BC Servizi a tenere la testa della gara e Dertona a rincorrere chiudendo ogni tentativo di allungo degli Amaranto, la terza sirena si chiude sul 66 a 53. Nell'ultima frazione i ragazzi di coach evangelisti mettono in ghiaccio la partita anche grazie ad un paio di canestri di pelucchini che tengono a distanza gli avversari. Il punteggio finale dunque è di 82 a 67. L'Amen BC Servizi parte con il piede giusto in questa seconda fase del campionato. La prossima sfida sarà quella contro il Borgomanero, altra formazione giovanissima che nella prima uscita è stata sconfitta a Quarrata. Sicuramente Borgomanero è un'altra squadra con un altro settore giovanile importante la differenza è che loro hanno anche qualche senior di esperienza naturalmente siamo fuori casa dobbiamo sicuramente giocare in un atteggiamento migliore sotto un profilo di attenzione probabilmente però sappiamo qual è il nostro percorso andiamo là con la mente serena, lavoriamo bene tutta la settimana ci interessano i miglioramenti dei nostri ragazzi anche stasera abbiamo visto bene Gianni Celli, Jankovic quindi sono molto contento.